Buongiorno, oggi è una splendida giornata di pioggia e vi propongo una meditazione particolare. È una meditazione di guarigione. In sostanza si tratta di dichiarare all'universo il proprio intento affinché l'intento stesso dell'universo diventi il proprio intento. Affidiamo all'universo una richiesta di guarigione nei confronti di qualcosa, sintomo, malattia, messaggio, disturbo, disagio che ci ha magari accompagnato per molto tempo e che in questo momento, proprio adesso, siamo pronti a lasciare andare. In sostanza chiediamo la collaborazione dell'intero universo. Per fare questo esercizio in modo ottimale ti suggerisco di utilizzare questo mudra. è un mudra che cortocircuita l'energia dei polpastrelli, del lato sinistro e del lato destro e porta grandissima distensione. Immagina di avere come un grande pompelmo tra le mani, con tutte le dita che si toccano. Poi immagina di appoggiare le mani comodamente sulle gambe e questo favorisce un'enorme distensione. Contemporaneamente ti suggerisco di utilizzare il respiro picco picco, tipico della tradizione sciamanica degli Ipuna. Mentre inspiri con il naso, immagina e intendi di attrarre dalla sommità del capo, il settimo chakra, l'energia dell'universo. E mentre espiri attraverso la bocca, immagina attraverso le piante dei piedi di entrare in profondità nella terra come fossero radici e di poter succhiare il nettare lenitivo della terra. Nel momento in cui tu fai questa cosa, sei in armonia tra cielo e terra e in totale distensione. lascia che i pensieri evaporino, lascia che scorrano via come l'acqua di un fiume e semplicemente vivi l'esperienza percependo anziché pensando. Questo esercizio meditativo di guarigione è un esercizio sciamanico di grande potenza e ti suggerisco di farlo su ogni aspetto problematico oppure di malattia o di disagio che tu senta davvero di poter lasciare andare ora, in questo preciso momento. la malattia, il disagio, il sintomo, il dolore ti hanno dato nel tempo tutto ciò di cui potevi avere bisogno. A te importa l'insegnamento che questi aspetti ti stanno lasciando, non la sofferenza. Lascia dunque in questo momento andare la sofferenza e trattieni in un ecoscambio cosmico l'informazione, l'aspetto di crescita, l'elemento evolutivo, ciò che davvero ti serve. Lascia andare ciò che non serve, trattieni con te ciò che serve. Un giusto scambio. Quando sei pronto, pronta, semplicemente chiudi gli occhi, metti le mani in questo mudra di grande distensione, respira con il naso l'aria e con la sommità del capo l'energia, espira con la bocca l'aria e con le piante dei piedi l'energia. Collegati tra cielo e terra. Respiro picco picco, sento l'energia del mio cuore, pura sorgente di luce. Le mani giunte mi conferiscono una sensazione di grande distensione e rilassamento. il mio passato, il mio futuro, forme d'onda che collassano in questo istante. Questa quiete che pervade il mio corpo porta altrettanta quiete nella mente. In questo mio percorso, dal cuore fino al centro della terra, attraverso le radici dei piedi, trovo sollievo, trovo l'energia lenitiva della terra, trovo il modo di lasciare tutto ciò che mi è pesante. tutto ciò che non ha più senso in questo momento, che è superfluo, posso lasciarlo a madre terra come nutrimento e contemporaneamente sento che nello spazio vuoto lasciato dai pesi abbandonati posso accogliere come se respirassero le cellule del mio corpo a contatto con la terra, il centro della madre terra in cui mi trovo e respirassi l'energia lenitiva nutriente accogliente della terra. Percepisco sempre più profondo rilassamento. ad ogni respiro sempre più profondo rilassamento. Ora sento che posso a ritroso percorrere il mio viaggio verso il centro della terra e piano piano riattraversare la terra in tutti i suoi strati fino ad arrivare a toccare la crosta terrestre riattraversarla e emergere dalla terra vedendo questa stanza dall'alto come se fluttuassi e mi allontano sempre di più passando attraverso il soffitto in quanto sostanza eterea vedo la città di dolo vedo vedo il fiume mi allontano sempre di più vedo le città confinanti in mezzo al verde vedo anche la sagoma di Venezia vedo il campanile di San Marco la caratteristica a forma a pesce vedo allontanandomi sempre di più anche la forma del Veneto le sue montagne vedo ancora più in là le Dolomiti ora vedo l'intero stivale dell'Italia allontanandomi ancora di più vedo la sagoma dell'intera Europa con tutti gli stati che la compongono e allontanandomi ancora di più progressivamente vedo ormai la Terra come una meravigliosa sfera di acqua e Terra insieme vedo anche la Luna poco lontano dal tondo della Terra vedo allontanandomi sempre di più tutti i pianeti del sistema solare riesco a osservare anche con gioia gli anelli di Saturno così simpatici e vedo allontanandomi sempre di più tutto l'aspetto lattiginoso della Via Lattea e ancora di più vedo ormai l'intera Galassia accanto vedo altre grandi galassie e mi allontano sempre di più sempre di più nel farlo attraverso i vari mondi i vari piani dell'esistenza dal piano più materiale quello dei minerali dei cristalli al piano organico delle piante degli alberi e degli esseri elementali dal piano prettamente fisico nel quale siamo abituati a vivere allontanandomi sempre di più vedo ormai le galassie sempre più piccole miliardi di miliardi di miliardi di galassie e le posso contemplare da un infinito spazio vuoto in espansione mi allontano sempre di più in questo spazio infinito e vuoto attraverso ancora i piani dell'esistenza arrivando al quarto piano il regno degli spiriti superandolo arrivo anche al quinto piano il piano degli esseri divini semi divini ancora più su nell'infinito vuoto il piano delle leggi che forma l'intero tessuto dell'universo e ancora sempre più in là in questo infinito vuoto in questo infinito spazio entro nel settimo piano dell'esistenza il piano del creatore di tutto ciò che è percepisco una meravigliosa luce è la luce della luce in questo momento che mi sto abituando piano piano a questo tipo di intensità luminosa la percepisco come di un color sottile madre perla ora che piano piano sto vedendo in questa luce della luce scorgo una sorta di portale una misteriosa forma rettangolare di un ancora più vivo e intenso color madre perla so che posso passare attraverso questa porta e portarmi ancora più profondamente dentro la luce della luce qui semplicemente contemplo contemplo come pura percezione ciò che è null'altro che percezione di ciò che è sento la quiete profonda che si è fatta spazio dentro di me sento profonda analogia tra lo spazio illimitato e luminoso che mi circonda e lo spazio di profonda quiete dentro di me e semplicemente ricordo senza pensiero come pura percezione ricordo ricordo ciò che sono tutto ciò che esiste è perfetto io sono quello ora semplicemente ricordo da questo spazio di profonda quiete ascolto ora il mio corpo che è macchina biologica che ho scelto tanto tempo fa nell'illusione del tempo per manifestarmi in questa specifica modalità da questa mia quiete profonda sento con grande chiarezza il corpo lo percepisco in tutto il suo insieme ne riconosco la perfezione quanta meraviglia quanta meraviglia ora porto la quiete proprio là dove prima ho scelto di occuparmi di un problema un disagio un malessere un sintomo una malattia che è con me da parecchio tempo così tanto tempo che ho quasi rischiato di abituarmici ora so perfettamente che non ho più bisogno della sofferenza a cui pure mi stavo quasi abituando scelgo di trattenere con me tutto l'insegnamento che questo problema questo sintomo questo disagio questa malattia ha voluto comunicarmi scelgo di tenere questo insegnamento e scelgo di lasciare andare il dolore per farlo scelgo anche di guardarlo in faccia in modo diretto in modo molto chiaro limpido ascolto dunque il mio corpo e sento dove questo problema disagio disturbo malattia sintomo è localizzato se fosse localizzato da qualche parte nel mio corpo dove sarebbe localizzato in un istante scopro dentro di me questa risposta sento perfettamente dove è localizzato e divento anche immediatamente consapevole di quanto è ampio rispetto alla grandezza del mio corpo percepisco molto chiaramente quanto è esteso quanto è grande questo problema disagio sintomo disturbo malattia lo vedo con grande chiarezza guardandolo bene posso anche vedere oltre a quanto è grande posso vedere come è fatto ha una forma molto particolare che mi è immediatamente chiara comprendo se è una forma regolare se è una forma geometrica se ha simmetrie o se è invece completamente irregolare lo vedo chiaramente davanti a me e in un istante vedo anche di cosa è fatto è qualcosa di leggero oppure è qualcosa di pesante ne vedo ne percepisco chiaramente la consistenza e il peso ne divento perfettamente consapevole questo sintomo disagio problema malattia localizzato proprio lì dove lo vedo ha proprio quella precisa forma quel peso e quella consistenza così particolare ne riesco a vedere perfettamente i confini i bordi di questa forma e vedo anche di cosa è fatto questo confine o bordo è qualcosa di duro rigido oppure è qualcosa di morbido e contemporaneamente mi è anche chiara la consistenza della superficie è qualcosa di liscio oppure è qualcosa di ruvido tutto mi si fa immediatamente chiaro se dovesse avere un colore che tipo di colore ha come si sta mostrando qualcosa di colorato sgargiante qualcosa di opaco più grigio più scuro luminoso brillante vedo perfettamente anche il tipo di colore e di luce che ha e se addirittura potesse avere un odore di che cosa saprebbe questo mio disagio sintomo malattia problema e se addirittura potesse avere un sapore di che cosa saprebbe sarebbe dolce salato amaro acido cosa cosa sarebbe di fronte al gusto mi è perfettamente chiaro tutti gli aspetti i di come è questo sintomo disagio malattia disturbo problema ora io riesco veramente a coglierlo in tutto il suo insieme in tutte le sue caratteristiche con una chiarezza senza pari è proprio lì davanti a me ora che lo vedo così bene posso incontrarlo alla pari senza più doverlo temere senza più doverlo nascondere senza più dovermela raccontare eccolo lì è fatto proprio così esattamente così come lo sto perfettamente vedendo posso ringraziarlo di tutto cuore di tutta presenza posso ora ringraziarlo per il suo sacro compito che mi ha anche costato e per questo ancora più sacro di informarmi di qualcosa di comunicarmi qualcosa di importante ecco per tutto questo tempo mi ha detto qualche cosa qualche cosa che io ora sto molto chiaramente comprendendo e lo ringrazio grazie grazie per avermi comunicato quello che era importante che io venissi a sapere grazie grazie se per farlo hai dovuto impiegare tempo e sofferenza ancor di più per questo sento il valore di ciò che mi è stato comunicato scelgo dunque di trattenere con me come insegnamento quello che mi è stato detto in modo così costoso in modo così impegnativo grazie 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 per il valore di ciò che ora posso trattenere come insegnamento al tempo stesso scelgo di lasciare andare ogni sofferenza che ormai non ha più motivo di stare qui lascio andare dunque ogni sofferenza collegata a questo sintomo disturbo disagio malattia problema lascio andare ora posso visualizzare questo mio sintomo disagio malattia problema nella esatta forma in cui è nel colore nel sapore nel peso nella superficie così come l'ho perfettamente identificato ecco che si sta fisicamente separando da me come prima io mi sono allontanato dalla terra ora questo problema disagio malattia sintomo si sta letteralmente staccando da me nella forma che ha sempre di più sempre di più fino a separarsi completamente da me ora lo vedo staccato dinanzi a me con ancora più chiarezza di prima in quanto sono più sobri o meno coinvolto non sono più la persona che subisce ora è tutto molto chiaro eccolo lì davanti a me con serenità posso ancora una volta ringraziare ringraziare e lo faccio con le parole più vere che mi escono dal cuore mentre per un ultimo momento contemplo ciò che ho di fronte ora mi sento pronta a lasciare andare ciò che sto ancora per un momento un ultimo momento contemplando dinanzi a me ora visualizzo che lo stacco si fa maggiore che la distanza aumenta questo problema disagio malattia sintomo che prima sentivo come mio perché per tanto tempo mi ha accompagnato ora lo vedo allontanarsi da me in tutta serenità in me alberga ancora quiete gratitudine comprensione mentre vedo allontanarsi sempre di più sempre di più questo vecchio compagno eccolo andare oltre la luna oltre i pianeti del sistema solare oltre la galassia oltre infinite altre galassie distante ormai infiniti universi ora io semplicemente contemplo questo vuoto lasciato e trasmuto questo vuoto in piena presenza in totale consapevolezza incapacità di comprensione e in piena gratitudine mi sento amore luce forza mi sento autenticamente per ciò che sono e lascio ora che l'energia l'energia di questa iniziazione lavori dentro di me per consolidare al di là al di là dello spazio del tempo questa profonda consapevolezza grazie grazie di avermi seguito anche in questa esperienza ti auguro di aver trovato una nuova leggerezza un nuovo stimolo per vivere la tua vita pienamente e con grande gioia sii felice grazie